Le mie lezioni sono le lezioni sempre differenti, in cui la base delle lezioni è il work in progress. Noi lavoriamo molto con la matita, con i colori, progettiamo in classe, ci piace confrontarci e ci piace soprattutto scoprire in ogni ragazzo le possibilità, il talento, ma soprattutto le peculiarità. Non tutti hanno gli stessi mezzi, non tutti usano le stesse tecniche. Credo che oggi bisogna rimanere nell'attuale mondo del computer, bisogna continuare sempre e comunque a tentare varie strade comuni, come possono essere il disegno, la scultura, la pittura, la grafica, i plastici. Mi piace che i ragazzi provino tutte le possibili strade, anche perché oggi un accademia di belle arti è soprattutto un luogo dove si dovrebbe proporre arte e l'arte per me è un'arte trasversale. Mi piace portare i ragazzi alle lezioni di scultura, di grafica, farli girare, farli conoscere la pittura, i professori che dipingono, i professori che insegnano pittura. Mi piace che i ragazzi si avvicinino al mondo dell'arte. Oggi pensare al mondo dell'arte esclusivamente legato al design è per me una follia. Gli informo di tutto quello che succede nel mondo, a livello di architettura, di design, ma mi piace che i ragazzi siano assolutamente pronti ad affrontare argomenti sul cinema, sulla musica, sulla pittura, sulla storia dell'arte, sulla grafica, sulla scultura, sulla comunicazione, sul linguaggio. Oggi bisogna rimanere informati e soprattutto molto curiosi di tutto quello che succede intorno. La RU fa una cosa molto interessante, il fatto che tu ti trovi con uno studente in classe, un professore, continuamente nello stesso aggiornata, ci puoi parlare anche 20 volte. La RU fa un grande vantaggio, è una scuola, quindi abbiamo delle classi definite, 15 persone, 14, 17, 18, c'è un confronto continuo con questi ragazzi. Quindi questo per me è una delle cose fondamentali, il confronto, la crescita costante tutti i giorni, la possibilità di apprendere, di confrontarsi, di passare da una lezione all'altra nel giro di qualche ora e soprattutto di non avere quel rapporto universitario che oggi non riesce mai a gestire il rapporto personale. Secondo me se esci dalla RU fa hai una preparazione che ti può permettere di entrare nel mondo del lavoro e di confrontarti con quelli che possono essere questi due aspetti, dell'interior design e del product design. L'interior design si occupa fondamentalmente di riprogettare i spazi interni, come dice la parola, possono essere degli spazi pubblici, dei ristoranti, dei wine bar, possono essere tranquillamente degli spazi privati, come delle case, delle ville, degli appartamenti. Il product si occupa soprattutto dello studio dell'oggetto, di solito ci sono dei rapporti più con l'industria, possono essere importanti anche dei rapporti con un product più di stampo artigianale che di solito rientra più nel campo dell'interior design. Grazie a tutti.